Nel giorno della festa della donna, il sindacato autonomo di polizia ha reso omaggio con una semplice cerimonia a Sabrina Pagliarani, l'agente morta in servizio quando aveva soltanto 26 anni. Era il 30 settembre del 1994, quando la giovane agente della polizia stradale di Busto Arsizio fu uccisa da un tir tedesco all'altezza dello svincolo di Como Sud dell'autostrada dei Laghi. Durante la notte, mentre l'agente era di pattuglia lungo la A9, controllò un tir e chiese di poter verificare i documenti. Mentre tornava all'auto della stradale per il controllo, il mezzo pesante si mise in moto per una manovra che finì col travolgerla. L'agente morì durante il trasporto in ospedale in seguito alle gravi ferite riportate. Questa mattina una delegazione delle SAP con il segretario provinciale Igor Erba e il segretario aggiunto Ernesto Molteni ha depositato un omaggio floreale al monumento che ricorda Sabrina Pagliarani nell'area di servizio Lario Ovest. Presente anche una delegazione dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato per non dimenticare mai, come hanno ricordato semplicemente, i colleghi dell'agente morta in servizio.